Amici della Pulce nell'Orecchio, svegliate Alessandria, buongiorno, ci troviamo in Via Marengo al negozio di frutta e verdura di Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao, buongiorno. Mimmo, noi ti abbiamo raggiunto per commentargli incresciosi episodi di cui tu sei stato vittima negli ultimi giorni. Mi dicevi di essere stato vittima di furti e rapine 13 volte nell'arco di un anno, giusto? E' iniziata da un anno per tutti i cinque negozi, da uno egiziano, con una grande squadra, quasi 10 persone. Il primo negozio che ha rubato è Largo Vicenza 8, l'hanno sbaccato due volte nella stessa settimana. Poi il corso Carlo Max l'ha rotto a una vetrina, quasi 2000 euro, un danno ha fatto. Il danno è quello dell'arco di Vicenza, parliamo, è quasi due volte ha rubato. L'ha fatto danno quasi 3000 euro. Poi il corso Carlo Max, come ha detto, la vetrina fino ad adesso ha rotta, 2000 euro. Poi l'ha rubato qua a Via Marengo, questo negozio qua. L'ha rubato quasi 2000 euro, la stessa cifra, diciamo. Poi l'ha fatto dormire il ragazzo, quella che fa la notte. E poi l'altro ieri l'ha rubato a Via Marengo. Meno male che il carbo nero l'ha preso lui. Quindi la persona è stata identificata e arrestata. Sì, sì, è stata arrestata, poi si è uscito uguale. Ok. È quello che è successo. Poi, ma quando si è uscito il ragazzo l'altro ieri dal caserma, si è venuto qua, diciamo, verso le 8 sera, e mi dice per me scusa. Io ha detto, guarda, io a te non c'è proprio niente da parlare. Lui è iniziato qua sotto telecamera al mio negozio a amminacciare e l'ha sbaccato proprio la maglietta, l'ha presa a metà qua. Poi l'ha dato una cortellata. Sì, una cortellata, quasi 13 punti. Sì, è venuta la squadra mobile, diciamo, dal volante, costruita d'Alessandria. Sì, è venuta, il momento pure l'ha beccato a mia moglie, perché c'è stato a mezzo, pure a mio cugino. C'è stato tutti qua. L'ha fatto tanti danni per me, due ragazzi egiziani. Il ragazzo si chiama Smayin, sempre egiziano. Il ragazzo quello ce l'ha con me molto, molto, perché lui tira cocaina, fa tante cose. Io veramente, guarda, non ci trovo una parola perché lui non mi lascia un bacio. Non mi lascia un bacio perché vorrei essere Stefano. Ma nel corso dell'ultimo anno è sempre lui l'autore di tutti i danni? Sì, per tutte le cose, quelle che sono successi per me. Ma perché ti odia così? Io non lo so, forse è che qualcuno dietro pure a lui, più grande di lui. Qualcuno che lo istiga? Sì, sì, perché lui, guarda, diciamo scemo. Lui non ce la fa fare niente. Lui, guarda, si è venuto con me a lavorare. Ma era un tuo ex dipendente? No, io, guarda, io lavoravo prima con lui, la stessa ditta, perché prima del Barattiso, io adesso si chiama Gamal Frutta. E questa è la mia ditta adesso. Prima io un dipendente, lui lavorava con me. Lavorato con me due settimane, ma quando io stavo lavorando come a lui. Poi, lui ha lasciato il lavoro, si è andato via. Nel stesso momento io l'ho preso e l'ho ditta per nome mio, l'ha comprato. L'ha chiamato a me da Milano. Ha detto, Mimo, io sto dormendo la strada. per favore, mi prenda a me da dormire a casa. E ha detto, va bene, ma non c'è niente problema, vieni. Lui si è venuto e ha dormito con me a casa tre giorni. Poi ha detto, guarda, io vado. Va bene, vai. Dall' stesso momento ha lavorato con me due giorni. Non ha lavorato, diciamo, andava, tornava. Ma aiuti, diciamo. Poi lì si è venuto a via a Treviso, quello che è successo dall'inizio, da un anno fa. Ha detto, guarda, io mi interessa la soldi mia, da due giornate, 150 euro. E ha detto, guarda, io non c'è niente da pagare per te. Perché questo è giusto. Uno che già ha dormito con me tre giorni, l'ha preso dalla strada, l'ha aiutato, pure l'ha dato da mangiare. Dall' stesso momento si è venuto da una battuglia del costore d'Alessandria, e lì a Largo Ficenza l'ha preso lui. Ha detto, guarda, lui deve... Ha mandato lui d'Alessandria proprio, ha mandato via d'Alessandria. Ma questo quanto tempo fa? Un anno preciso. C'è stato relato l'unica. Quindi ha avuto il foglio di via d'Alessandria, però non si è allontanato. No, non si è allontanato d'Alessandria. Perché il lavoro di lui rubano solo a notte. Lui ha dieci persone, una grande squadra. Ha fatto su un commando con cui va in giro a rubare, a fare rapine, furti. Sì, questo è il lavoro di loro. Questo è il lavoro di loro. Rubano qualsiasi cosa. Però guarda, voglio dire una cosa. Loro l'hanno sfannato a un negozio mio, ha sfannato, ha sfannato tutti i cinque negozi. Magari che io mi piacerebbe sapere perché l'ha fatto così. Ma i complici di questa persona? I complici? Non si sa niente. Però alla fine ringraziamo loro, la squadra mobili, il volante, la storia di Alessandra che mi ha aiutato tante, veramente. Anche un'altra cosa, lui dall' stesso giorno l'altro ieri l'ha visto a miei figli alle stazioni l'ha toccato pure lei. Questa è la cosa grave. Una bambina? Sì, 13 anni. E com'è andata? Sì, lei si sta andando a McDonald's dalle stazioni sta tornando verso la negozio nostra a violenza e l'ha controllato lui là perché conosce lei perché è mia figlia e lei ha iniziato a toccare la sisa poi lei si è scappato dall'azio nel negozio mio di violenza e ha detto guarda si è andato dall'azio Le molestie sessuali stai dicendo? Sì. Poi allo stesso momento mi ha chiamato mio cugino ha detto Mimmo deve venire subito perché il ragazzo l'ha toccato la tua figlia se è andato a prendere al negozio è andato direttamente la costura ha fatto pure la deluncia poi è finita lì Questa persona è in galera adesso? Questa persona guarda sta sbettando le parole guarda io non lo so niente fino ad adesso Beh la speranza è chiaramente che poi la magistratura non vada a vanificare gli sforzi degli uomini della squadra mobile Tu se questa persona fosse qui davanti adesso cosa gli diresti? ma credi che io non mi abbia sbettato l'elicostura da Alessandra da tutte le blusia io ho già ammazzato io ho già ammazzato creda me io ho già ammazzato aveva fatto come l'anguria quella che le vende in un negozio ma credi che io non mi abbia sbettato loro perché c'è uno da tutte le squadre ma l'ha dato una parola per me per mia moglie prima ha detto Mimmo ci pensi noi tu non devi fare niente perché tu c'è la famiglia c'è la lavoro c'è la negozio tu non si può rovinare è ragionevole infatti che io mi hanno rispettato leggi pure la prima cosa perché io speriamo che le mie leggi mi rispettano a me perché io ho bisogno la cosa mia come che io l'ho pagato un anno l'ho sfondato il mio negozio veramente guarda è stato tanto male sto anno poi non lo so che ti devo dire Mimmo io ti ringrazio e che dire auguri per il tuo lavoro speriamo che questa situazione si risolva nel migliore dei modi e che la magistratura prenda le decisioni che sono più opportune grazie grazie mille grazie